Uè, fermi, fermi, fermi New Character Info Ci siamo Calmi, calmi, calmi These new characters will be released as part of a New characters Mega Rising Mega Rising Fermi Fermi, ci vogliono bene Nappa Dacci un Nappa Nappa È Nappa, no è Yamcha Bellissimo Raga, sono tutti quanti Allora, mi sa Sì, Z Fighter Tutti i fighter ucciti Però non me la contano Troppo giusta, eh Non me la contano troppo giusta È strano Raga, mancano 20 minuti Comunque è bellino, il modello ci sta Bello, bello Il modello è fighissimo, bello Cos'è? No Nappa 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 È Gohan, no Ah Gohan, sì È Gohan È Goku È Goku No, cavolo, raga Raga, il Kaioken, il Kaioken Ha detto la cosa a 4 Che figo Raga, ma l'avete vista? Mamma, che bello che è Che stupendo Raga Raga, è bellissimo Fermi No, la corsa No, raga, no No, raga Raga No, raga No, no, no È bellissimo È bellissimo È bellissimo E' un altro banner E' bellissimo C'è altra roba sicuro Pure secondo me E' bellissimo però E' troppo bello Goku Goku è veramente stupendo Goku è troppo bello Raga si schippa ma Goku è troppo bello Mannaggia la miseria Ma cosa schifo Vado Salta la testa del personaggio nemico Ma tu sei pazzo Vediamo Ditemi che Yamcha non è brutti Prego ditemi Yamcha non è brutti Ragazzi cover castrante Non l'ha castrato solo perché era un Cyberman Fidatevi quello lo castro E' l'alakame Bello Bellissimo Wolfgang Fist Troppo bello Bostiglio del lupo No Blu Blu e Yamcha Ragazzi vede l'info bro Staccato che blasti fans Ok E quindi purple sarà Goku Molto bene Possibile Possibile Eh si dai Goku e purple per forza Ci sta Blu, viola, Saiyan Saga Allora se ci sono 3 avversari rimanenti Più 50% Il dono infilitto Vabbè puzza un po' sto Yamcha Cardro Meno C'ha C'ha l'anti-endurance Di tipo di serie Ma come Quando entra per 15 count Ant-endurance Bello Entra in campo Contra alleati Ancora in vita No Sì Ancora in vita Sì Antico one Un po' strano in early game Sarebbe da rush Questo qui secondo me Però 15 counts Però ogni volta Quindi va bene Ci può stare Ci può stare Ci può stare Nullifica dei cover Sì Sempre con 3 3 in vita E c'ha più 40% di critical rate Oh raga Interessante Interessante PG carino Interessante Però è tipo È tutto early game Sì Schippante Assolutamente Perché C'è Un po' la tua gimmie Che mi sa che deve Far volare la svelta Sì Sì Vabbè ma giustamente Questo è il Yamcha Che crepa male Quindi voglio dire Ci sta Ci sta Che sia così Anche di kit È come se fosse a tempo Sto coso Non lo è Ma è come se fosse Tempurizzato Schippabile Tranquillamente Vediamo Un Grange Power change strike Quando cover Annulla l'elemento Per i danni sostenuti Per i 10 count Sì Dalle blast Oh Sì Dalle blast Per 5 count È mica male Oh Non è male Per 5 count Semplicemente Entrando in campo Quindi neanche Che ti manciano il cover Red Red Green Non credo Sarà utilizzabile Contro questo personale Sto godendo Già Sto per quittare Viene suicidato Recupera Immagina se il D Per la God Non è malvagio Raga così A leggerlo Su due piedi Sì Raga hanno fatto Mi sa sto banner Per counterare Red Red Green Perché Goku è palesemente Viola Ma pure secondo me No raga Mi sto a pensare Le animazioni di Goku Sono clamorose Mamma mia Bello Guardalo Mamma mia Guarda Questo è uno spettacolo Questo è uno spettacolo Ma è bellissimo Questo è uno spettacolo Raga Bello bello Mamma mia Il nostro banner Comunque lo sapete Vero Mamma mia Ma anche la porta Guarda quant'è 4 Sì È troppo bello Mamma mia Che spettacolo Sotto Dio È spettacolo Raga Mamma mia Giallo 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 Sono family Saiyan Saiyan saga Ultimate Ultimate Awake Un oraccia L'elemento A favore Per i danni sostenuti Per 10 count Accorcia di 10 Tempo di sostituzione Sarà un endurance Revival Eh sì Sarà un endurance Mi sa di sì Perché si Si lancia Si dovrebbe lanciare Lui sotto In teoria Eh sì Si dovrebbe lanciare Lui sotto C'è un bel debuff Comunque Su Ultimate Awake Mica male Abbiamo Però Pare che questo Sarà il mega counter Del mono purple Eh In teoria Eh Sembra carino Sì sì Si skippa tranquillamente Regà Però È bellissimo Io mi sa che Un giretto Comunque a prescindere Lo faccio Si si fa Si fa Dispiace Allora Se c'è un alleato sconfitto Si pesca una verde Per due volte Il 70% Allo stride damage Ah ok Tu praticamente Per morire Yamcha Fentra lui Eh La lore è questa 5% di infliggere Fent con le strike Sì 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 Però perché Uno sconfitto E Mi fanno così strani Sempre sti pg Però c'è 5 pagine Vediamo Il doppio vanish Se non sbaglio Eh C'ho tutto con i defeated battle member Si la le strike Invece Si la le strike Sì Minchia Raga Monoparple Bababia Bababia A voglia Restaureo del 15% di HP Attivabile per 3 volte Minchia 45% di restore di HP C'è questo Ragà Comunque Se fanno Mega Rising Più banner e le F Sono dei maledetti Insomma è un po' illegale Come è mossa E però che devono fa' Eh raga Mancano 14 minuti Cioè Di 5 minuti per go E poi 9 minuti Qualcosa Sì ma che ci manca Che ci metteresti come personaggio limitato Vegeta Un'altra volta Possibile Ultimate Magdame C'è più 50% Al danno Ultimate No switch No switch Se c'è un alleato sconfitto Sì E non anti-endurance Se colpisce Si buffa a merda Tutto quanto Ah c'è anti-endurance Nella Ultimate Ultimate Per restare di HP 90% C'è cancellato Chi buffa alleati Ci sta Mi sembra un personaggio Molto Molto contro monoparple Ma se dobbiamo Stare qui a dire Che è un personaggione No 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 Non lo so Allora Dillo una carta A caso ogni volta Che l'avversario Utilizza una strike O una blast Beh Non male Non male Molto scomodo raga Molto bene Non male Special move Maker impact 40% Il danno in petto Di sanno Tutte le carte avversarie Se colpisce Infligge anche un Q5 Di costo Non male Ci sta Ci sta Non è male raga È sfizioso Sì 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 L'8 maggio Molto sinergico Con Yamcha Tipo uno skippa Le buste D'altro le strike Uno di prima D'altro di buff Veramente Ti dobbiamo giocare insieme Allora Legends Battle Royale Un femmini veggie da clan Quanto manca raga? Mancano 9 minuti 8 minuti 8 minuti Ma vabbè Secondo me Non c'è niente In realtà Dai Forse una sola LF Non ci sta più nulla Però ha fatto il sorrisino Luca La speranza è quella Però Mai dire mai qua Per il momento Io sono molto contento Raga Molto contento Anche se mi sembra Solo strano Mi sembra strano Che sia un Mega Rising A 2 PG Perché comunque Dai Gino forse erano Buttarcene un terzo Eh Ma se ne aspetta un terzo Vabbè L'inditto che ci hanno dato Nessuno pensava a Yamcha Come personaggio Che cosa vuol dire L'inditto Non è un app Tipo L'inditto sembrava Tipo O un app O quelli che sopravvivevano Quindi piccole crili Ma Vediamo un attimo Sì Sì ma vediamo un attimo Capiamo due secondi Eh Che cosa No frate Come il trailer del gioco Ma che cazzo fai Ma no Ma frate Ah beh Sono sponsorizzo Ma ecco perché Vuoi 25 minuti Oh quasi Non ditemi Belzebub giocabile Perché mi sento male No Belzebub bellef Non ci credo Non credo Non credo Cosa Colore giallo 100 Belzebub ultra Dai lo pullo No però Veramente Se mettono Un personaggio giocabile Regà Capiamoci Comunque Questo gioco Lo piglio sicuro Visto la serie E' pure bello Poi c'è sta parte originale Che non ha fatto C'è che ha fatto Toriyama Che non era nel manga La seconda Molto bella Guarda Guarda Vedete una cosa Guarda Legends Come aiuta Oh Eh E mette Sandland Nel trailer E dai personaggi Shallot Lo da Dragon Ball Heroes Eccetera eccetera Ma gli altri Quando si decideranno A dare qualcosa A Legends Nessuno dà niente A Legends Quando è che prima o poi Qualcuno darà Qualcosa a Legends Capiamo un attimo Rosetta Vabbè Kakarot L'unica Kakarot Che diede Il Goku Ma pure Fighters Dai Sì con 21 Dai ci può stare Dai dai Ancora 17 Mancano 7 minuti Non esce niente Eh spero Eh comunque non sembra male Sto gioco Ma Sto gioco in blu La beta è molto carina Poi se adattano Tutta la storia Vedi che è figo Sei più bello Oh guarda guarda Oh Mamma mia che grande Il signore degli inferi Nito Sì sì Oh questo col caschetto È un pezzo di merda Mamma mia E' un maschio Uè 26 aprile E che Signore Non era Darbula Quello lì Cioè No non era Darbula Ragazzi No 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 Sì la campagna Ah ok Background Sleeves Ok Bello bello Ok Già leggero prima Per il lancio Del film Poi Bello bello Ok Vabbè i coin Tramite i coin Si possono pia Cosa No non vogliamo Un LF finale bro No Voglio smisciarlo Come Quella Un po' arrivo però Vabbè Finita ragazzi Dai Se finisce così Siamo ufficialmente salvi Il primo Il primo che vedo lamentarsi Impazzisco Lo dico Social media Social media campaign Ok Allora Io per il magazine Sono contento Eh pure io Pure io Io non dico che schippo Ma dico Mi faccio giusto Se esiste Se esiste il giro Al massimo Mi faccio il giro E poi lì Sono contento Di fermarmi Capito Guardi Fai 1-2 giri Eh capito No no 1-2 giri No 1 Basta Gli accidenzi da power Magari Va bene Ottimo Vediamo Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Raga mancano Che cosa Mi esce fuori La sorpresona Dei 100 milioni Di utenti Scusate Fatemi vedere un attimo Aspetta Zincaio qualche ultra Fatemi verificare un attimo Raga dura 23 minuti e 40 secondi Mancano 2 minuti e 40 secondi Forse un trailerino Al volo Eh trailerino Mi sa goodbye Adesso Oh no Buon segment Ma no No Ma è usato Ah oddio Ce l'aveva Ce l'aveva anticipato Mandate Ah si lo dissero Anche sta roba L'hanno detta pure nell'avviso Vabbè Sì Siamo salvi Molto bene Molto bene Ma che vuol dire Che vuol dire questa cosa Che stanno facendo Ti fanno vedere cosa hanno fatto Durante gli anni Eh ma Aspetta un attimo Perché L'avevano già Prepronosticato Ci tengono Bellissimo Io è la prima volta Che lo sto a vedere Io non l'ho giocato Guardate Oh No Non l'ho giocato Non l'ho giocato Eh Ok Comunque negli ultimi anni È migliorata tantissimo Sto cose Tantissimo Sì 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 Vabbè questo era Dai Vabbè Per me se prima o poi Si inventano Si inventano Proprio una modalità Sfiziosa Però il problema È che tu la lanci Per un giorno È brutto Però si inventano Una cosa sfiziosa È figo Tipo per me Uno degli eventi Che potrebbero fare È quello lì Della Punching Ball Scorneo Prima o poi Ok Questa pure era Roba non giocabile No Sì E se non era Del tutto Paccato Ma Vabbè 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 Onesto Io domani Volevo pullare per bene Sono un po' Ma Ma Statta Zitto Per favore Vatti Ma 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 che voleva pullare per bene Mannaggia Guarda Io mi fa incazzavo Mi fa incazzavo E già facci Stavo carico Dai Ma Mannaggia Un altro mese e mezzo di Monopurple Dai a posto Ma sì Dai Ma che voglio C'ho got Cugliel Che locca le strike Vabbè Vabbè Ma immagino che Boh A sto punto Due settimane Ci sarà qualcosa di grosso Se siamo anche nei 100 milioni Non penso che ci sia solo il Mega Rising Per i 100 milioni Diciamo che le nostre crono godono L'unico problema È solo che quel Goku è molto bellino per me Cioè Più come personaggio Che per Quello che farà E non credo Secondo me no Non so se li faccio uscire Per 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 Genio Ah ok dai Va bene Va bene Va bene Ok Ok Siamo salvi Siamo ufficialmente salvi adesso Ah no Siamo ufficialmente salvi Salvi